La Piana e la Montagna 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 La Montagna La Montagna La Montagna La Piana e 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 la Montagna La Montagna La Piana e 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 la Montagna La Montagna La Montagna e la Montagna 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 e crede profondamente con fede e con volontà che bisogna lavorare per poter contare la pazza. Per questo ho comprato questo regalo da voi, è molto simbolico. Per noi il regalo è un regalo che la Municipalità dà a tutti i visitatori. Ma siamo chiusi per mantenere la stella come il nostro principale target. Perchè all'interno c'è la stella e all'interno la piota dell'anatica. Perchè la stella di Betlehem lead us all to bring the peace that Betlehem needs and we all need as peaceful as much as we can. Amen. Perchè questa stella possa portare la pace a Betlehem e perché loro ne hanno bisogno e che la possa portare con l'aiuto di tutti noi. Amen. Grazie. 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 E naturalmente è vera che c'è l'ora della sua presenza, le immagini, volevo ancora dire questa cosa, davvero vi invito a vedere le immagini della mostra, perché queste immagini che il sindaco purtroppo conosce bene sono le immagini del muro che Avetlemme separa, chiude la città e la divide dal resto del mondo, che è molto difficile per loro superare e che sono poco conosciute da noi, vivono un dramma all'interno di un chiuso dentro questo muro ed è un muro di odio, possiamo romperlo, vogliamo romperlo. Vi invito adesso... Chiara, volevo ringraziare il sindaco di Avetlemme e invitarvi poi a leggere ciò che ci ha lasciato come messaggio sul libro che sancisce il suo passaggio qui. È un messaggio semplice, che però tiene conto di due cose che lei ha già detto, che Don Stodino questa mattina ha ricordato e che Chiara ha ripreso. La pace, la solidarietà, però ci ha aggiunto una cosa che ci ha già detto questa mattina in Consiglio Comunale, questa Betlemme di Chivasso, insieme a Betlemme di Palestina, siano un ponte, un ponte, un ponte, un ponte forte, largo, dove tante persone, tante donne, uomini, uomini, bambini, possano prendere, e questa è un'immagine che ho usato questa mattina, il martello, lo scarpello, qualsiasi cosa per poter piano piano, pezzo dopo pezzo, a battere il muro che circonda Betlemme di Palestina. Questo, come diceva Don Tonino e come ha ripetuto Vera, è essere operatori di pace. Diamo alla città di Betlemme un'altra opportunità, anche attraverso questo mondo. Grazie, Vera. Grazie a tutti. Se sono finiti i discorsi, la messa non è ancora la mia. Aspettiamo la benedizione, però poi ci avviamo verso il parco a giochi, perché c'è una targa che ricorda Don Giovanni. Ricordo anche che oggi pomeriggio, l'ultima cosa, oggi pomeriggio alle 16, presso il Teletrino Civico, ci sarà un incontro pubblico in cui tutti i giornalisti, ma tutto il pubblico che desidera partecipare, potrà parlare ancora con il sindaco Vera Badò. Ci sarà un filmato. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio, onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Questa è finita, andate in pace. Grazie a Dio. 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 a Dio. A Dio. Grazie 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 a Dio.